Salve, mi chiamo Laura e faccio parte ormai da 20 anni della ditta BabyComp SRL, la società che importa in esclusiva per l'Italia questi straordinari apparecchi per la contraccezione e la procreazione che vengono prodotti in Germania. Che cosa sono BabyComp, LadyComp e Pearly? Sono degli indicatori di fertilità computerizzati adatti a qualsiasi donna in età fertile anche con cicli irregolari per sapere esattamente quando inizia e finisce la finestra fertile del ciclo di modo da poter essere utilizzati quindi per la contraccezione naturale oppure come aiuto per la procreazione. Come funzionano BabyComp, LadyComp e Pearly? Gli apparecchi hanno installato un software che esegue un'analisi della curva termica della donna. Attraverso l'analisi della curva termica l'apparecchio riesce a determinare l'esatto momento dell'ovulazione. Attraverso invece un lavoro di memorizzazione di tutti i dati mestruali della donna stessa riusciamo a capire la dinamica oscillatoria dei cicli e di conseguenza dell'ovulazione. Il lavoro del software è in pratica quello di stabilire esattamente quando inizia e finisce il periodo fertile del ciclo di modo che se la donna volesse utilizzare l'apparecchio per evitare la gravidanza in modo naturale abbia una fidabilità contraccettiva del 99,3% o al contrario se la coppia dovesse avere delle difficoltà di concepimento avere la possibilità di monitorare il ciclo e la pianificazione. Andremo poi nello specifico delle funzioni dei singoli apparecchi. Grazie. Grazie.